Era stata annunciata dieci giorni fa l'intesa tra la lista civica progetto FVG dell'imprenditore Sergio Bini e il movimento IDEA fondato dal senatore Gaetano Quagliarello in vista delle elezioni regionali 2018. La convergenza dei due soggetti era stato sottolineato in quell'occasione e arrivata in modo naturale e si basa sulla volontà di creare una sintesi tra civismo e nuova politica in una fase come quella attuale in cui non ci sono più ideologie ma nodi e problemi da risolvere. Oggi questo nuovo contenitore politico che si colloca nell'ambito della coalizione di centrodestra ha compiuto la sua prima uscita pubblica a Trieste allestendo un gazebo dove gli aderenti guidati dai responsabili locali dei due alleati e cioè Luisa Pilat per il movimento IDEA e Roberto Cason per il progetto FVG hanno distribuito materiale informativo e promosso un pubblico incontro che si terrà il 25 novembre nella sala del molo quarto. Partiamo proprio da Trieste per rafforzare appunto quello che è il civismo, quello che è il movimento civico regionale e ci diamo da fare. Io tra l'altro sarò anche componente del tavolo del lavoro regionale per quanto riguarda l'economia e il lavoro. Lavoro ce ne abbiamo tantissimo. Partiamo da qui e ce la stiamo mettendo tutta. Il ruolo di coordinatore per le candidature alle regionali di cui dovrebbe essere investito Roberto Cason, il condizionale d'obbligo perché l'incarico verrà ufficializzato nel corso del meeting del 25 novembre, non fa venire meno, ci tiene a sottolinearlo, la sua appartenenza alla lista di piazza per la quale siede in consiglio comunale. E per quanto riguarda la circoscrizione elettorale di Trieste, la lista degli aspiranti consiglieri regionali è in via di definizione. Una lista è formata non da politici, bensì da semplici cittadini che vogliono apportare le loro esperienze alla politica per il bene della città e della regione. Chiaramente ci saranno le quote rosa in quanto corrono tre donne su nove, sei maschi e tre donne e ci stiamo dando da fare, stiamo programmando tutto.